Una P.A. che pone i bisogni, le attese e la soddisfazione del cittadino al centro della propria attività. Una P.A. trasparente, che ti dice cosa fa per te, chi lo fa e come lo fa. Una P.A. fatta di dirigenti e di dipendenti responsabili, dove il merito è premiato e valorizzato e dove la colpa è sanzionata. Una P.A. che promuove le pari opportunità fra uomini e donne. Una P.A. che ha gli strumenti per migliorare i servizi, per programmare, misurare e valutare meglio. Una P.A. che ti ascolta e ti aiuta, che ti semplifica la vita. Una P.A. gentile, disponibile, amica. Una P.A. che anche tu puoi valutare e migliorare. Da oggi questa è la pubblica amministrazione che ti puoi aspettare. È entrato in vigore il Decreto Legislativo 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Questo portale ti aiuta a conoscere e seguire la riforma e a partecipare alla sua realizzazione. Regole chiare per la P.A. Diritti veri per te.